Una bravata di un balordo o un atto intimidatorio? Dopo l'esplosione di un petardo giovedì scorso davanti all'abitazione del sindaco di Avellino Giuseppe Galasso e la riunione di venerdì del Comitato Provinciale sull'Ordine Pubblico, convocata dal prefetto guidato, continuano le indagini da parte degli inquirenti per chiarire la brutta vicenda. Al momento il primo cittadino ha scartato l'ipotesi di una scorta o altro tipo di tutela, ma, come ha sottolineato il prefetto, saranno sicuramente intensificate le attività di vigilanza di polizia, carabinieri e guardia di finanza nei confronti del primo cittadino e della propria famiglia. Al momento dell'esplosione, infatti, in casa era presente solo il figlio del primo cittadino. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone. I maggiori controlli saranno insomma una misura a scopo esclusivamente precauzionale, finché le indagini non chiariranno quanto accaduto. Al momento gli inquirenti stanno visionando il contenuto delle telecamere a circuito chiuso della zona per cercare elementi che possano far luce sulla vicenda di via Pescatori. In base ai primi rilievi sarebbe emerso che il petardo sia di fattura artigianale e a basso potenziale esplosivo. Gli agenti stanno anche studiando le testimonianze raccolte sul luogo tra residenti e passanti per raccogliere ulteriori elementi e risalire così ai responsabili del villeggesto. Nessuna certezza al momento sul movente, ma solo due ipotesi, la bravata di un balordo o lo scopo intimidatorio. Intanto il primo cittadino ha ripreso la regolare attività lavorativa in comune. Sono sereno e vado avanti per la mia strada, ha commentato. Come amministrazione siamo stati sempre corretti. Il vile episodio non condizionerà il nostro lavoro. Grazie a tutti.